Ciao, sono Terry, la nuova speaker della confraternita. Questa settimana faremo un ITA, impastiamo tutti assieme, dedicato a un prodotto buonissimo, il gnocco fritto. Ci guiderà Vincenzo Rambofango, che conosce molto bene questo prodotto delizioso, nato in Emilia e poi diventato famoso in tutto il mondo. Quindi, potete seguirci direttamente cliccando all'indirizzo riportato nella descrizione. Non mancate! Ciao, a presto!